Quello che mi ha convinto a scegliere T-Casa per vendere il mio appartamento è il fatto che utilizzano delle tecnologie innovative. Io sono molto appassionato di queste cose. Mi hanno spiegato come tutti i miei documenti sono su internet in una blockchain che garantiscono la sicurezza di tutti i miei dati e anche della mia casa. Poi mi hanno fatto vedere la valutazione delle case con intelligenza artificiale e la valutazione di casa mia mi sembrava particolarmente realistica. Allora gli ho dato la mia fiducia e l'incarico esclusivo per lavorare per me.